Siamo con Emanuele Manzoni, Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Lecco. È un'occasione per anticipare le diverse iniziative natalizie, alcune già in corso, per gli anziani che l'assessorato prevede in questa città di Lecco, che si conferma sempre di più una città di anziani. Quanti sono gli anziani considerati come tali residenti nella città di Lecco? È una delle più alte percentuali delle città italiane. È vero, Assessore Manzoni? Buongiorno, sì, confermo, i dati dicono questo. Noi in città di Lecco abbiamo ben 12.000 persone over 65, vuol dire che il 25% della nostra popolazione è composta da persone che vengono definite anziane, anche se sappiamo che oggi il concetto di anzianità sta molto cambiando. Un tempo era immaginato come il periodo del riposo, dell'uscita dal mondo del lavoro, oggi è ancora il momento dell'uscita dal mondo del lavoro, ma ci sono tutta una serie di attività che le persone più anziane continuano, fortunatamente, a fare in termini sicuramente di welfare familiare, per esempio, ma anche di sviluppo di passioni, hobby, relazioni. E quindi è diventata una stagione della vita che ha ancora molti interessi e sviluppi. Lecco si conferma una città sicuramente con una grossa percentuale di anziani, come dicevo, la seconda in Lombardia, perché prima è Sondro, che ha la medaglia d'oro rispetto alla presenza di persone anziane nella città, e proprio per questo c'è un investimento importante da parte dei servizi del Comune riguardo questa fascia. Abbiamo finito il periodo cosiddetto estivo-autunnale delle attività e ci lanciamo verso quelle che sono le iniziative invece più legate al tempo del Natale invernali. Proprio in questi giorni, domani, San Nicolò è il santo patrono della città di Lecco e proprio in queste ore ci sono persone anziane legate al nostro spazio di comunità al Giglio che stanno nelle scuole materne nella nostra città consegnando le mele rosse in San Nicolò. Proprio ieri, insieme a una delegazione, insieme a Beatrice Civiglini, l'operatrice storica del Giglio, ho partecipato alla consegna di queste mele nella scuola materna Damiano Chiesa che oggi sta nella struttura della De Amici, in Corso a Mendola. È stato un momento veramente bello, veramente emozionante vedere questi bambini e queste bambine ascoltare e pendere dalle labbe dei nostri anziani che raccontavano la leggenda di San Nicolò e i valori che stanno dietro. La leggenda di San Nicolò è stato un momento veramente importante, quel dialogo generazionale che permette di perpetrare le nostre tradizioni e il senso di appartenenza alla nostra città. Ecco, altre iniziative pre-natalizie che sono previste da adesso a Natale considerando la numerosa presenza di anziani nella città di Lecco. È stato poc'anzi ricordato che è la seconda città di Lombardia dopo Sondrio come presenza numerica di anziani. Ricordiamo i principali appuntamenti quindi. Ecco qua, io ho fatto i compiti, ho portato il bel volantino che ogni mese il Centro Giglio redige per informare sulle attività che si fanno. Il momento clou di questo mese sarà il 13 dicembre dove rispetto al passato andiamo a modificare un po' la tradizione perché AVPL insieme al Giglio e l'Associazione Volontari Pensionati Lecchesi organizzava un pranzo storicamente di Natale. Quest'anno si è deciso di fare una cosa un po' diversa. Una proiezione, verrà proiettato il film al Cinema Quilone a Stolfo che tratta appunto della vita di un pensionato e poi ci sarà un ricco apericena nel salone dell'oratorio di Lecco. Quindi questa è l'iniziativa di aggregazione del più importante del periodo. Ci saranno poi anche altre attività collaterali che mi piace ricordare come per esempio dei laboratori creativi alla Orca Lab l'ex scuola primaria convertita in spazio di comunità il 19 dicembre quindi martedì 19 dicembre alle ore 10 e poi un bel momento di aggregazione è organizzato insieme ad Hauser e al coro di Hauser il 21 dicembre alle 12.30 al Circo Libero Pensiero ci sarà un pranzo e poi un coro. Purtroppo per questa iniziativa siamo già sold out nel senso che sono già arrivate moltissime prenotazioni e quindi gli spazi non consentono di accogliere altre persone mentre per la pericena del 13 dicembre c'è ancora posto quindi invito le persone che sono interessate a partecipare a queste attività a prendere contatti, magari diciamo anche contatti dello spazio El Giglio in modo che le persone possono eventualmente poi prenotarsi il numero di telefono è 0341 28 75 92 oppure c'è anche la possibilità di contattare gli operatori al cellulare che è 348 52 72 116 quindi questo è un po' il programma e come connettersi a queste attività. Queste per le iniziative natalizie visto che ormai siamo nell'ultimo mese dell'anno possiamo anticipare qualcosa già nei programmi dell'inizio del prossimo anno 2024? Se vogliamo anche anticipare alcune attività del nuovo anno ci sarà la festa della Befana perché sappiamo benissimo che la festa della Befana le festività natalizie si chiudono con la Befana giovedì 4 gennaio alle due e mezza ci sarà appunto all'oratorio di Pescarenico un momento conviviale che si inserisce all'interno di una cornice di un bel progetto che è il progetto Avviciniamoci realizzato dal comune di Lecco insieme alle parrocchie di Pescarenico e Lecco Centro che permette a delle persone, a dei volontari di andare a incontrare persone che purtroppo soffrono solitudine all'interno delle nostre comunità e questo sarà un momento un po' perché queste persone possano incontrarsi e chiudere le festività natalizie insieme quindi questo è il primo evento di gennaio poi ne seguiranno ovviamente altri e avremo occasione sicuramente di trattare di parlarne ancora L'ultima domanda era proprio questa possiamo anticipare qualcosa per il nuovo anno dopo questo intenso programma natalizio si dice agli anziani devono essere sempre lasciati meno soli devono essere coinvolti nella vita cittadina nella vita generale devono essere parte attiva della società Questo è il nostro obiettivo questo è l'obiettivo per cui lavoriamo quotidianamente e per cui stiamo anche costruendo insieme al tessuto sociale della nostra comunità una serie di attività che insistono su dei luoghi specifici poche settimane fa abbiamo inaugurato un nuovo luogo di comunità a Bonacina voi sapete che la scuola elementare di Bonacina ha chiuso per la curva demografica che noi tutti conosciamo e dalla chiusura della scuola elementare però come amministrazione conoscendo i bisogni e la specificità del rione più piccolo della nostra città che è Bonacina abbiamo voluto rilanciare con l'apertura di tre spazi la scuola elementare, la struttura più antica verrà convertita in un asilo nido e ci sarà anche lo spazio per uno studio di un medico di base e invece quella che era la mensa in via Labirinto dove i bambini e le bambine andavano a consumare il pranzo è diventata, è stata inaugurata proprio recentemente lo spazio di comunità Labirinto Bonacina un luogo che ha proprio queste caratteristiche vuole essere uno spazio di aggregazione, di incontro per le persone più anziane che vivono in rione per quelle che soffrono di solitudine per persone vulnerabili che magari passano un momento difficile questo avverrà grazie alla presenza degli operatori del comune di Lecco in particolare Giglio e Cesea grazie alle associazioni alle tante associazioni che hanno voluto costruire insieme a noi come amministrazione la cabina di regia di questo progetto lo spazio per adesso è aperto tutti i giovedì mattina e poi in base al calendario di attività che si stanno via via organizzando uno spazio io credo importante un'altra risposta insieme alla Orca Labi insieme allo spazio di accoglienza e salute degli alturati insieme al Giglio insieme ad altri luoghi che come amministrazione vogliamo che rimangano vivi per mantenere vivi i nostri rioni quindi diciamo buon Natale e buon anno a tutti ma in particolare ai tanti anziani della città di Lecco buon Natale e buon anno a tutti sicuramente con un'attenzione particolare ai nostri nonni e alle nostre nonne e con la speranza che questo Natale sia una nuova occasione per riscoprire i legami più profondi che ci legano e con l'impegno da parte di tutti e tutte noi di non lasciare indietro nessuno e di non far passare in solitudine a nessuno il Natale e le feste grazie